Amici 17 vs. Ballando con le stelle, sarà Albano vs. Gina Lollobrigida. Una sfida over 70. Per contrastare la finalissima di Ballando con le stelle 2018, quel gran volpone di Maria De Filippi si è affidata ad Albano. A detta di Tvblog super ospite della puntata di sabato sera. Proprio quell'Albano che poche settimane fa, al fianco di Romina Power, fece decollare lauditel di Millie Carlucci. Rai 1, dal canto suo, rilancia con l'intramontabile Gina Lollobrigida, 90enne ballerina per una notte, oltre a Valerio Scano. Un'ultimissima sfida a distanza, tra Maria e Millie, in quella che è stata la stagione più competitiva per i sabati sera italici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.